C'è stato un tempo, un tempo nemmeno troppo distante, in cui l'uscita di un nuovo capitolo di Assassin's Creed ci faceva vibrare, ci faceva sentire proprio il fuoco ardere dentro, perché sin da quando nel 2007 ci fecero capire che c'era la possibilità di andare a esplorare un open world in grado di raccontarci delle storie che mettevano gli assassini contro i templari e comunque dei personaggi che in qualche modo erano collegati tra di loro, perché c'era tutta una storia dietro, noi eravamo lì che avevamo quel freccicorio che proprio ci trasmetteva la gioia di metterci pad alla mano, qui ne ho uno, non è il pad giusto perché nel 2007 non era questo, e sentivamo proprio la gioia di dire finalmente c'è un Assassin's Creed tra di noi, e all'inizio avevamo quell'emozione, quel sentimento talmente forte che ci spingeva a credere che ogni capitolo avrebbe portato la saga a fare uno step ancora più in avanti, anche perché il lavoro che era fatto da Jade Raimond e anche da Patrice Desilets, che spero di aver pronunciato abbastanza bene, era molto interessante, era affascinante, era arricchente. Poi è successo qualcosa, poi Assassin's Creed lentamente ha perso un po' il proprio smalto, ha perso la propria forza, è come se avesse perso un po' la trebisonda. E adesso con l'uscita di Assassin's Creed Mirage ci troviamo dinanzi anche a un titolo che non è riuscito a sfondare e a sfrondare quelle che sono le fresche frasche fronde, così andiamo avanti di Fra e Fre, di quella che è l'utenza videoludica. Tutto questo per annunciare, visto che di Fra, Fre e tutto il resto si parla, il mio primo ospite di stasera, che però è senza webcam in questo momento, adesso l'ha attivata, fantastico, ottimo, gli do il benvenuto perché lui tra l'altro ha legato il proprio nome nonché il proprio cognome a quella che è stata un po' la storia di Assassin's Creed, l'Assassin's Creed quello bello che dicevamo adesso che ci dava quel freccicorio, perché adesso me lo racconterà meglio lui, ma è più o meno dal 2011 che bazzica gli ambienti di Assassin's Creed, si è fatto anche eventi come il Fan Day di Assassin's Creed Revelations ai tempi, ma si è divertito anche in tantissime altre situazioni, ne ha parlato in tantissimi modi e tra l'altro sarà anche importante il suo contributo perché stasera, siccome abbiamo un ospite che si collegherà un po' così a sorpresa telefonicamente, ci sarà anche una carambata con Francesco Del Rio. Francesco, buonasera. Ciao ragazzi, ciao ragazzi. Ciao Francesco, ciao, ciao, ciao. Presento anche subito dopo di te il secondo ospite in attesa che arrivi anche il terzo, non è un abitué di pop talk però è già stato qui in zona, conosce bene come funziona, è abituato a queste mie introduzioni prolisse, ridondanti, asfissianti, quindi si è fatto un po' il callo diciamo. Quando parliamo di creepypasta in Italia noi possiamo pensare a due persone, una di queste due la presento adesso, l'altra arriva tra cinque minuti ed entrambi hanno avuto l'accortezza di studiare con grande attenzione, perizie e capillarità la storia di Assassin's Creed, quindi stasera potrete battagliare per capire non solo chi ne sa di più ma anche chi è più appassionato tra di voi e quindi do il benvenuto e soprattutto lo ringrazio per essere qui stasera con noi ad Amico Diverte. Buonasera, maestro. Ciao, buonasera a tutti, salve maestri. Maestro, ma questa cosa che ha alle spalle di legno è bellissima ed è arricchita tra l'altro con una bottiglia affascinante. Allora, guarda lì sei pieno di word, dove sei? Sono all'escape room di Lucca ragazzi, questa è l'ambientazione di oggi. Oh, bellissimo, fantastico. E mi hanno dato la stanza western quindi per fare questa live. Bellissimo, ma è veramente bellissima. Quindi abbiamo anche in anteprima un teasing di Lucca, in realtà no, Lucca città, non è che sia Lucca come Steam Games. Siamo alle porte della città. Siamo alle porte della città, va benissimo, ci è piaciuto. Allora, in attesa che ci raggiunga anche Morte Bianca, io butto subito lì il... Facciamo che voi siete dei barili pronti ad esplodere, io fiammifero, via, e butto lì. Più che altro a Francesco che so che ci ha giocato in questi giorni e quindi ha anche la possibilità di raccontarci qualcosa in più. Quindi, Francesco, dov'è che ha sbagliato il nuovo Assassin's Creed? Allora, bella domanda. Così sui piedi ti dico... Ti dico che il brand ormai sta sentendo i colpi di una situazione molto delicata internamente a Ubisoft. Oggi sarà molto difficile parlare... Vero. Non siamo stati fortunati. No, oggi sarà difficile parlare con leggerezza della saga perché dal 2020 a ora, ma in realtà anche da prima, a essere sinceri, Ubisoft non sta navigando in buone acque. complice un po' le produzioni che stanno subendo battute d'arresto importanti. Pensiamo al remake di Splinter Cell che è stato annunciato, ma è sparito. Skull & Bones che è qualcosa di annunciato da non so quanto tempo. Io ricordo di aver partecipato con Ubisoft al programma Star Player nel 2018, ospite... 2018 era alle 3 di Los Angeles, quindi sì... Lì alla Gamescom c'era proprio un angolo dedicato dove stavano raccontando del gioco come se fosse di... C'era anche la demo, c'era anche la demo, noi provammo la demo. Sì, sì. Anche quello sparito dovrebbe uscire a breve, ma sta continuando ad accusare ritardi dietro ritardi, Prince of Persia, Prince of Persia, sparito lo stesso, insomma, non se la sta passando bene. E quindi oggi sarà un po' difficile parlare con leggerezza della saga, proprio perché Ubisoft ha tutta una serie di criticità interne che si stanno... È una questione di tempo, i nodi stanno arrivando al pettine, quindi si stanno riflettendo sulla produzione, perché sappiamo tutti ormai che già di per sé una produzione AAA ormai è diventata ipertrofica, insostenibile, già sulla carta. Se poi ci aggiungi tutte quelle controversie che stanno emergendo in casa Ubisoft, tra ambienti lavorativi pessimi, molestie, eccetera, eccetera, l'equazione promette un risultato alla nitroglicerina. Ecco, diciamo che tuttavia comunque è indiscutibile che Ubisoft abbia un know-how allucinante, tra l'altro è una delle poche software house che regge i volumi di grandi publisher che vivono sotto l'ombrello delle case degli hardware, quindi parlo di... cioè Ubisoft ha una potenza di fuoco equiparabile ai PlayStation Studios, caccia fuori una marea di IP, ultimamente non ne ha imbroccato proprio tante, però comunque non gli si può negare che abbia un know-how pazzesco e abbia la capacità comunque di produrre su larga scala e anche in tempi abbastanza celeri per una software house che sostanzialmente è da sola, ecco. Quindi niente, per tornare alla domanda, Assassin's Creed Mirage sicuramente è un... si vede che c'è amore da chi ha fatto il prodotto, ma al tempo stesso si vede la volontà di Ubisoft di prendere tempo, ottimizzare i costi e quindi sfruttare asset già visti, una grafica che arrivati a questo punto, considerato che Valhalla è uscito nel 2020, inizia a sentire un po' il peso degli anni, un sistema che comunque non mostra niente di diverso nella misura in cui hai già giocato a Origins, per dire, cioè il mood è quello, no? La palette è quella, poi per carità Bagdad è una nuova location molto intrigante, però purtroppo sa un po' troppo tutto di già visto, mentre non discuto il riutilizzare gli asset, perché è una cosa che si fa normalmente nella produzione seriale, non esiste un rinnovamento totale a ogni capitolo, è impossibile. C'è però questo problema di fondo, più che altro nella percezione del mood, ecco, nelle vibes, che è un po' chi dice ok, dovrebbe prendermi, ma io questa cosa l'ho già, è un déjà vu un po' troppo vicino al precedente, diciamo così. Sicuramente ha di buono che si torna finalmente a vedere un'iconografia più vicina a quella che ci ha fatto innamorare tra il 2007 e nel 2009, poi con la consacrazione totale arrivata con Assassin's Creed 2, ci sono queste riminescenze importanti che comunque, detto terra a terra, gasano, perché se sei un fan della vecchia guardia, a vedere quella che adesso si sta condensando nella setta degli assassini, che adesso si chiamano ancora occulti, però stanno diventando a tutti, parliamo di un setting che è 300 anni, se non ricordo male, da gli eventi del primo Assassin's Creed, quindi ci stiamo, il loop sta per risovrapporsi, in un certo senso. Ecco, quindi da questo punto di vista l'iconografia è molto interessante, perché per l'appunto strizza l'occhio e c'è questa ondata a Marcord che ti gasa, però io sono molto d'accordo con i voti che sto vedendo in giro, è un titolo, è un titolo onestamente... E fa fatica. Sì, mi duole dirlo, ma è un po' mediocre, nel senso, poi mancano tutta una serie di sfumature per dirti, io fino all'altro giorno stavo giocando a Unity, capitolo del 2014, che ancora per me non plus ultra, e per carità agli esordi fece un patatrack devastante, è da lì che inizio il declino a livello economico di Ubisoft, però dopo che è stato patchato e che soprattutto adesso io ad esempio, prima lo giocai con molta fretta sulla PlayStation 4 perché era talmente mal ottimizzato che faceva decollare la console, faceva schizzare la ventola a velocità folli, e quasi avevo paura di spaccarla, onesto, cioè era proprio ottimizzato male perché sforzava troppo la console, diceva no, questo non ne vale la pena fermarsi su un gioco del genere col rischio che davvero mi riduca al tempo di vita dell'hardware, mentre invece adesso la PlayStation 5 se lo palleggia serenamente e mi ha dato quella possibilità di esplorarlo con più trasporto, con più passione, e mi sono accorto che effettivamente quello lì è stato un punto di rottura clamoroso, quello lì era il remake che tutti vorrebbero, ma che nessuno si è accorto di avere già tra le mani, e che oggi, nonostante ci sono passati quasi dieci anni dalla sua uscita, visivamente sbalorditivo, e poi ha tutta una serie di meccaniche ed elementi che poi nei capitoli successivi sono stati tolti, perché poi è arrivata l'ondata GDR, Action, RPG, che ha sradicato completamente quelle logiche e la gente le voleva però, no, io voglio la co-op, voglio poter fare il parkour sofisticato, voglio quell'eleganza, voglio quell'assassino agile, scattante, che è letteralmente una lama nella folla, voglio un sacco di folla, voglio tutto quello che c'era in Unity, sostanzialmente, ma ottimizzato. Invece c'è stata questa direzione completamente diversa, che per carità poi ha dato ragione, perché comunque i numeri sono arrivati, però la formula di Assassin's Creed è andata a perdersi, è andata a perdersi. Sostanzialmente si è partiti prima con una serie di comandamenti dove bisognava rispettare una certa struttura per poterlo definire Assassin's Creed, poi c'è stato un tentativo di rinnovamento senza staccare la spina, io sono uno dei fan della prima ora che si è molto arrabbiato quando si è chiuso il primo ciclo narrativo perché è stato gestito male e soprattutto non ha dato la possibilità a noi utenti di dire ok, scendo, alla prossima fermata scendo, a posto così, vuoi raccontare altro? Fai. Ok? Francesco ti chiedo, ti chiedo giusto 20 secondi, ti interrompo perché introduco... Io andrò per ore. Vai sereno, vai sereno. Però io introduco, visto che è qui nelle retrovie da un po', introduco Morte Bianca. Dottore, maestro. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera a Morte Bianca. Mario, che ringrazio dell'ospedale. Ma grazie a te. Buonasera all'amico, amico di Verde, che vedo lì dal West, presumo, ecco da... È in un saloon. È in un saloon, mi ha fatto vedere una foto. È un saluto a Francesco, che devo dire, sono stato d'accordo con ogni parola che ha proferito, con ogni sillaba, anche la punteggiatura ero d'accordo sinceramente. Quindi... Peccato, io speravo che tu entrassi e iniziassi a dire no Francesco, non sono d'accordo, e invece... No Francesco, non sono d'accordo, disinformatore, come ti sei permesso. No, allora a questo punto io farei finire Francesco e poi siccome a E20 abbiamo il collegamento, quindi tra quattro minuti, poi faccio un'introduzione velocissima per quella che è la mostra che si sta tenendo a Venezia in questi giorni e poi torniamo a bomba sul gioco, così poi cerchiamo di capire che cosa funziona, che cosa non funziona, più che sul gioco, sulla saga in generale. Francesco, quindi scusami se ti ho interrotto, vai e faccio. Non c'è un problema, guarda, per riassumere sostanzialmente ti dicevo non c'è stata la possibilità a chi voleva di poter abbandonare la saga, invece sono stati lì sempre a tenere al guinzaglio la vecchia guardia con briciole di lore, di narrativa che potevano interessare, ma che poi non sono state neanche sviluppate correttamente, quindi eri costretto a subirti questa serialità che uno magari non voleva più e poi alla fine per poi culminare magari in un abbandono drastico, come io mi sono rinnamorato con Origins, poi di nuovo però con Odyssey ad esempio mi sono un po' allontanato, adesso sto tornando con Mirage perché, ti ripeto, Gaza, vedere una certa iconografia ma questa è la situazione diciamo. Un velocissimo commento da Amico di Verde e Morte Bianca la saga che direzione ha preso? Voi che l'avete spolpata con questi video che hanno raccontato tutta la genesi e che cosa è successo ad Assassin's Creed secondo voi dov'è che si è perso proprio il punto focale? Dov'è che i fan hanno smesso di essere così infuocati dinanzi ad Assassin's Creed? Allora, comincio io? Vai! Sì, però vai tu. Allora, tanto sì, sono d'accordissimo con tutto quello che ha detto Francesco che ha fatto un'analisi tecnica impeccabile quindi io mi concentrerò dal punto di vista forse emozionale da fan se così possiamo dire. Allora, io ho sempre pensato che il primo Assassin's Creed fosse qualcosa di nuovo ma di non perfetto perché comunque lo trovavo un po' noioso e ripetitivo nel tempo. Poi c'è stato quel capolavoro che per me è il più bel gioco di tutti tra gli Assassin's Creed che è il 2. Perché? Allora, io mi sono sempre chiesto cos'è che ti è piaciuto le città che erano bellissime il contesto la trama di Ezio la trama di Desmond allora è stato secondo me tutto un concerto e soprattutto era il periodo in cui c'era il mistero di che cosa sarebbe successo nel 2012 che la Ubisoft ha cavalcato tantissimo e è stato il gioco che mi ha fatto appassionare i misteri della storia c'erano i glifi dovevi studiare un attimo trovavi queste e quindi dicevi wow e poi c'era questa questa trama che cosa succederà a Desmond quindi sono riusciti a portare avanti le due trame parallele Ezio Desmond Ezio Desmond e purtroppo ha cominciato il declino proprio dal capitolo successivo secondo me ed è stato il tracollo come ha detto Francesco alla fine del primo ciclo narrativo laddove secondo me si sono risollevati con ma che fighe le battaglie navali belle quindi buttiamo tutto su Black Flag battaglie navali a mille però la trama ormai era morta cioè secondo me era più godiamoci il personaggio di turno però ormai dietro non c'è più interesse per me dalla morte di Desmond secondo me è morto tutto e non sono più riusciti a risollevare niente cioè non c'era bellezza nel giocare ai capitoli se non ah mi godo il posto cioè io ancora sono lì che dicevo ma il prossimo sarà in Giappone ho notato che ci sarà no è in Iraq ancora meglio oriente ancora oriente e io aspetto il Giappone perché secondo me lì la Ubisoft potrebbe fare tantissimo potrebbe fare un Tenchu per così dire con i ninja i ninja assassini c'è tanto potenziale va sviluppato bene io aspetto quello per dire verrà risollevata la saga però non lo so perché dipende dalla trama del background del personaggio che ci sarà assassini confraternita non lo so io non per ora non ho prospettive rose quindi concordo con tutto quello che ha detto Francesco morte allora secondo me la saga diciamo che effettivamente c'è stato un calo e un miglioramento con la fine della trilogia della trilogia della saga ecco classica di Desmond perché era una saga con una trama orizzontale ben definita con un protagonista riconoscibile con tutta una serie di avventure che però si riconducevano a quel mondo lì a quella trama orizzontale lì una volta finita quella diciamo che hanno da un lato ottenuto dei pregi cioè il fatto che per via delle memorie genetiche non si potevano esplorare molte regioni perché se no Desmond avrebbe dovuto avere parenti in mezzo pianeta cosa che hanno cercato di giustificare con il fatto che Ezio si è riprodotto con tutto quello che si muove a volte non era neanche così neanche così selettivo ecco però appunto puoi andare avanti fino a un certo punto con scuse del genere quindi con l'idea di no vabbè apriamoci ad altre saghe apriamoci ad altri personaggi eccetera sono riusciti a a spandersi sicuramente hanno creato una cosa interessante perché tutti quanti comunque concordano che è figo avere gli Assassin's Creed ambientati nelle varie epoche nelle varie civiltà tutti quanti hanno loro Assassin's Creed ormai giusto così però si è anche perso si è perso soprattutto l'importanza perché lo sto facendo tanto oggi io sono questo domani sarò quell'altro ma che fine ha fatto lo sconfiggere tutti insieme i templari sembra così una battaglia dietro l'altra che vinci la battaglia ma non vinci la guerra eccetera come sta andando dopo l'apocalisse dopo il famoso 2012 eccetera eccetera si è un po' persa questa cosa qui ci sono state delle evoluzioni soprattutto di chiaroscuri molto importanti giocidati precedentemente da Francesco cioè i templari non più così cattivi punto gli assassini non più così buoni punto tutta una serie di complessità a livello archetipico a livello di fazioni ok politicamente non era più così semplice tutto molto bello tutto molto interessante però si era perso questa cosa qui e io vedo questo voler tornare alle origini voler tornare nelle stesse nello stesso Medioriente che Altair aveva cavalcato insomma in cui aveva agito vedo un tentativo di riconnettersi a quelle radici di voler ritornare a raccontare grandi storie però una cosa è il tentativo una cosa è anche cercare di dare l'apparenza di quello un'altra cosa è effettivamente attuarlo io credo che la serie di Assassin's Creed con questo ritorno possa fare soltanto due cose o cercare a ritornare a raccontare grandi storie che poi ci riescano o meno un altro discorso oppure che il livello di creatività è talmente basso che adesso si passa dal fare nuove civiltà al riciclare vecchie civiltà e quindi mo ci dobbiamo riaspettare dei sorti di soft reboot in cui abbiamo di nuovo Medioriente di nuovo Italia di nuovo Pirati di nuovo Vichinghi e così via spero vivamente che non sia quest'ultima opzione con tante storielle sconnesse perché mi sono piaciuti alcuni elementi che venivano introdotti in Unity e che venivano introdotti in Valhalla mi sono piaciute certe cosine che hanno voluto spiegare io riprenderei quegli elementi andrei ad approfondire quelle radici di lore io ne approfitto poi anche per fare una un piccolo spin off alla nostra discussione perché poi e qui Francesco mi verrà sicuramente in soccorso negli anni Assassin's Creed è riuscito comunque a diventare una saga un tipo di videogioco in grado di declinarsi anche in altri ambienti è diventato un po' il videogioco che tutti hanno iniziato a citare perché poteva dare un qualcosa a livello storico poteva dare degli insegnamenti poteva trasmettere qualcosa a chi voleva imparare col videogioco e quindi si è partiti col fare tantissimi riferimenti ad Assassin's Creed in tantissimi ambienti a livello accademico a livello artistico si è parlato tantissimo di Assassin's Creed anche solo la questione Monteriggioni è un qualcosa che è diventato quasi focale come argomentazione e amico diverte annuisce perché giustamente gli hanno invaso casa in quel frangente lì quanto dista da te qualche chilometro cos'è Monteriggioni un'oretta e qualcosa ah vabbè dai pensavo pensavo peggio pensavo fosse un po' più vicino invece no non ti hanno ancora invaso casa per fortuna no però non è possibile vedere persone che corrono sul muro così non vogliamo sapere che fine fanno poi quelle persone che corrono in quel muro lì no però tutto questo per dire che di Assassin's Creed si è parlato tantissimo d'altronde è una serie che comunque ha venduto oltre 200 milioni di copie che esiste da 16 anni quindi insomma stiamo parlando di un pilastro che per quanto abbia perso un po' di smalto e appeal rappresenta veramente un pillar dell'industria del videogioco e il 2 ottobre del 2023 quindi pochissimi giorni fa in occasione di quella che è la giornata mondiale dell'architettura e anche in concomitanza con la biennale di Venezia c'è stata una mostra di game art che ha coinvolto anche Assassin's Creed noi adesso aspettiamo qualche minuto perché arriverà uno dei due curatori a parlarcene però io nel frattempo vorrei chiedere a Francesco che ha vissuto molto da vicino alcuni eventi e soprattutto ha partecipato a quelli che erano i fan day dei tempi andati di Assassin's Creed qual è proprio la sensazione che si ha vivendo questi ambienti e questi momenti in cui effettivamente Assassin's Creed forse nel 2012 2011 non si pensava sarebbe potuto diventare così importante a livello transmediale e invece adesso ci ritroviamo con un videogioco che viene citato davvero ovunque come esempio di importanza del videogioco stesso allora guarda sicuramente come ho anticipato anche poco fa è indubbio che con tutte le controversie e i lati oscuri dietro alla produzione di Assassin's Creed perché il 2011 è anche l'anno di rottura con Patrice Desilets è l'inizio della serializzazione della saga una concentrazione quasi totale di Ubisoft sulla produzione di Assassin's Creed con molto meno trasporto poi su altre produzioni è un periodo il 2011 è stato un periodo abbastanza abbastanza interessante anche perché poi con l'uscita di Desilets si è persa sostanzialmente quella bussola che anzi bugia 2010 perché lui se ne è andato nel bel mezzo della produzione di Brotherhood e nel 2011 con Revelations si fece l'innesto narrativo per il quale c'erano mille antenati Ezio e Altair non erano collegati direttamente ma facevano parte di un albero genealogico più ampio bla bla tutta una serie di giustificazioni narrative che hanno permesso poi al franchise di aprirsi a un ventaglio di opzioni di marketing e di vendita e produttive che poi ha dato ragione a Ubisoft e che però comunque non rientravano nell'idea iniziale di Desilets io ho avuto il piacere di parlare con Desilets nel 2019 quando ha lanciato il suo Ancestors che era il suo ritorno nell'ambiente complice tutte le baghe legali con Ubisoft perché ci fu una parentesi tremenda che se volete possiamo esplorare certo l'intenzione palese non me l'ha detto direttamente ma già per come era strutturato Ancestors che non so se continuerà visti gli esiti non lo so so che sta lavorando a qualcosa ma non era il seguito di Ancestors lui comunque Ancestors voleva fare una trilogia e la stessa cosa era Assassin's Creed e se noi andiamo a ripescare i primi capitoli si intuisce questa struttura ok poi c'è stata la divergenza cosa ha fatto esplodere il fenomeno Assassin's Creed è stata per l'appunto come hanno anticipato anche i maestri qui sotto questa sovrapposizione innanzitutto con questo timer questo countdown verso il 2012 ai tempi era ancora il futuro poi c'è stata una sovrapposizione critica anche per lo sviluppo delle cose e poi la trasmedialità che è anche quella che poi ha creato più casini se vogliamo dirla sporca perché per l'appunto alcuni 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 racconti io ad esempio sono uno di quelli che era molto preso dalla vicenda di Desmond sono stati poi bistrattati sui giochi per essere chiusi in supporti secondari come i fumetti cioè se tu non compravi il fumetto non sapevi che fine facevano certi personaggi alcuni di questi anche abbastanza importanti ma non scendiamo sulla parte narrativa rimaniamo sul fenomeno trasmedialmente fece un boato perché loro iniziarono lì ad usare il motto la storia del nostro parco giochi e iniziarono ad assorbire qualsiasi qualsiasi evento che aveva anche solo una vaga nota complottistica e sono stati i templari è esploso un magazzino di militare non so sono stati gli assassini crollano le borse sono stati templari poi da lì loro ci hanno marciato ampiamente con l'introduzione di Initiates che è stato quel fenomeno trasmediale tra l'altro dove la gente era presa benissimo che era quel giochino online dove ogni giorno veniva sviluppato un po' di storia però stava prendendo una tale importanza che anche lì stava creando un suo una sua gravità e stava portandola stava portando la saga su altri lidi e secondo me loro l'hanno stroncato per quello perché no questa cosa sta diventando troppo troppo importante infatti poi l'hanno riassorbita distribuendo dossier in giro nei successivi capitoli per non perdere il filo di quello della storia che si stava avvenendo a creare su Initiates che era clamorosa però chiaramente ormai questa per tornare alla gravità ormai queste cose avevano preso piede la viralità della trasmedialità di Assassin's Creed è diventata culto tanto che poi anche per riallacciarci al loro al loro know how tanto che la gente che scopriva posti nei giochi poi andava a visitarseli in giro nel mondo Monte Riggioni ha beneficiato un sacco in termini di turismo subito dopo l'uscita di Assassin's Creed 2 io in uno dei fan day ho beccato anche un ragazzo di cui adesso mi sfugge il nome che aveva scritto una tesi riguardo i mutamenti a livello turistico che ebbe Monte Riggioni questo perché perché chiaramente poi da lì ci si è accorti che quel gioco aveva anche una sua influenza nel mondo reale e quindi non solo lato turistico Monte Riggioni ma anche come al netto al netto di un sacco di imperfezioni perché un sacco di conoscenze architetti potrebbero puntare il dito e dirti no guarda in quell'epoca lì Notre Dame non era così ha una porta che adesso c'è ma prima non c'era bla bla però hanno con quel potere produttivo che ha Ubisoft loro sono stati in grado di imbrigliare il fascino della storia il fascino della storia dell'architettura e di portartelo sotto al naso per dirti guarda cosa potresti beccarti se vai a vederlo creando una passione che prima non c'era poi lato educativo se ne potrebbe parlare per altre tre ore di questo io sono sempre stato molto cauto sicuramente Assassin's Creed ti ti dà quegli stimoli che ti permettono di andare ad approfondire se vuoi però lato educativo ci sono delle limitazioni specialmente quando poi subentrano le scelte politiche basti vedere il il tour turistici fatti con con a partire da da Origins sì scusate dove per ragioni di filtri peggi triche ballacche sono state messe le foglie sulle parti basse delle statue capito quindi turismo edutainment ma fino a una certa capito cioè fin dove fin dove è lecito lo posso fare poi appena c'è da veramente investirci nel dire no guarda questi sono i fatti o raccontarmi una controversia che vada un po' più sopra le rime sopra le righe scusa allora lì c'era un problema ecco che la la sfera dell'insegnamento viene un po' compromessa ecco però è in dubbio che la saga abbia avuto effetti nella cultura pop perché è in dubbio è che lo stile noi ancora li stiamo li stiamo vivendo anche se magari adesso non ha più presa come un tempo però ormai quelli è un po' come jurassic park devo fare un paravone azzardato c'è stata un'interiorizzazione abbastanza importante cioè adesso se tu vedi un personaggio col cappuccio non pensi più ah figo non pensi ah assassin's creed si sono appropriati di certe icone capito e ormai è quello ormai è quello io ricordo francesco ricordo che un anno forse era il 2016 se non sbaglio c'era il cartoons on the bay a venezia e ieri ero lì per delle riprese e all'improvviso con dei cosplay iniziamo a fare questo giro di alcune strade da piazza san marco fino andando verso l'esterno con dei ragazzi che erano vestiti da dai vari protagonisti di assassin's creed e nonostante insomma non fosse una situazione molto agevole perché venezia è sempre molto congestionata a livello di persone che camminano e soprattutto eravamo nei pressi dell'università tutti si giravano ma di qualsiasi età e tutti dicevano oh assassin's creed come se fosse poi il personaggio capito un po' come quando si vedeva Goku e si diceva oh ma c'è dragon ball quindi alla fine si è un qualcosa che che entra entra e resta nel frattempo io vedo che fa entra e esci anche per rimanere in tema Luca Traini che doveva venire a raccontarci qualcosina della mostra di Venezia vediamo se ce la fa se la connessione gli è di supporto sto provando a risolvere i problemi fin dove posso qui da remoto però vedremo nel frattempo morte la domanda vera adesso quella difficile perché io stasera t'ho chiamato per le domande difficili mica per quelle facili anzi no aspetta perché forse Luca ce l'ha fatta quindi io un tentativo lo farei Luca ci senti? Finalmente mi sento ragazzi viva grandissimo Luca grandissimo benvenuto benvenuto Luca allora qui c'è il buon Francesco del Rio che ha parlato un sacco male di voi no non è vero ciao Lu se lo fa Francesco va bene se lo fa Francesco va bene è un grande io saluto tutti voi ragazzi e vi ringrazio anche a nome di Deborah che non c'è Deborah Ferrari non è potuta essere stasera perché è un altro insomma siamo un po' presi mamma mia come al solito si parla di nuove tecnologie poi basta un attimo che il campo non c'è e ciao ci ritroviamo a comunicarci con i piccioni volanti ecco bravissimo purtroppo anche le intelligenze artificiali hanno bisogno di internet Luca non ti tolgo troppo tempo allora noi con Francesco stavamo facendo questo discorso di quanto Assassin's Creed sia diventato importante a livello divulgativo e di quanto un videogioco che comunque ha venduto tantissimo in questi 16 anni sia riuscito a declinarsi perfettamente in tantissimi altri media e soprattutto così ci racconti anche come è andata questa questa mostra a Venezia in occasione della giornata della giornata mondiale dell'architettura ti chiedo di raccontarci un po' l'esperienza come nasce il tutto come si evolve come si sviluppa io nel frattempo faccio andare un video che riepiloga tutta la mostra in sottofondo sperando di non stonare le orecchie a tutti quanti facendolo partire nel caso perdonatemi poi abbasso subito il volume vai pure Luca ti ringrazio Mario senti la giornata è andata meravigliosamente poi sai Venezia era come essere dentro Assassin's Creed 2 ecco in un hotel che poi è originario di quel periodo lì cioè del fine XV secolo quindi ci siamo proprio con Ezio Auditore è andata benissimo e Assassin's Creed assolutamente da un punto di vista divulgativo l'avevamo visto quando avevamo invitato qui a Barese Maxine Durand come neoludica che aveva fatto un Alexio Magistralis all'Università dell'Insubria cioè l'aspetto divulgativo è fondamentale tanto che alcuni discovery tour di Assassin's Creed sono stati usati anche da alcune scuole da alcuni licei con cui eravamo in contatto per conoscere all'epoca erano Origins e poi Odis 6 quindi sì è la capacità formidabile di questo gioco colpissimo e allo stesso tempo assolutamente popolare perché se no non si spiegano 200 milioni di copie vendute è la capacità di riuscire ad arrivare a un pubblico vasto a un pubblico giovane ma anche non più tanto giovane e mostrare una quantità formidabile di luoghi che sono oggi patrimonio dell'UNESCO di architetture perfettamente ricostruite con un rigore filologico degno proprio dei migliori libri di storia e lo dice uno che in storia c'è laureato e l'ha anche insegnata a lungo cioè qui c'è dietro un'operazione formidabile fatta a un livello di estrema raffinatezza un livello di estrema raffinatezza che sia nell'immagine che nei contenuti quindi una perfetta coerenza di forma e contenuto che ha fatto sì che io e Deborah Ferrari che con Neoludica eravamo andati appunto alla Biennale di Venezia nel 2011 l'unico caso in cui poi l'arte del videogioco è andata lì ufficialmente subito dal 2012 abbiamo cominciato a lavorare grazie appunto ad Alberto Cocco Valeria Zaffina e appunto Laura Inglima manager sensibilissimi di Ubisoft Italia a lavorare sull'arte di questo videogioco facendo conoscere anche i concept artist e in questo caso abbiamo messo anche in mostra appunto William Coe Edouard Naset Goliath Gashi cioè i nomi anche e non solo diciamo il marchio di fabbrica per far capire che questa è una nuova arte è la nuova arte di questo inizio di ventunesimo secolo tra l'altro salutiamo Alberto Cocco che adesso si è lanciato nell'attività di scrittore quindi speriamo possa attrarre beneficio da tutto quello che ha fatto di benefico per l'industria del videogioco quando era qui in Italia per Ubisoft al di là di questa parentesi Luca la domanda quella un po' fastidiosa si no no vai scusami se volevi dire qualcosa dici no no volevo dire Alberto un grande tra parentesi io il romanzo l'ho letto vi assicuro che è formidabile ha un'ironia eccezionale una capacità descrittiva cioè non è un caso mi ricordo siamo incontrati alla Milan Games Week del 2011 la prima volta che curavamo il paviglione arte e vabbè è stato un uomo a prima vista ecco naturalmente mi fa piacere e Luca la domanda più quella un po' più fastidiosa è questa perché il videogioco in Italia ancora non è riuscito a scardinare quella come potremmo dire quella idea quella convinzione che rappresenti il male che faccia del male e che ancora fa fatica a inserirsi in alcuni contesti intanto però voi per questa mostra siete riusciti a coinvolgere docenti dell'Accademia di Belle Arti di Venezia cito Paolo della Corte cito anche Igor Imoff che spero di aver pronunciato bene che però è dell'Accademia di Belle Arti di Urbino certo tu mi dirai è un'Accademia di Belle Arti quindi è facile che ci sia un collegamento col videogioco però io ti servo questo assist il fatto che ci siano dei docenti che comunque insegnano in delle accademie quindi in delle università e che si avvicinano al contesto videoludico è sempre un qualcosa di cui andare fieri in Italia dove facciamo tanta fatica col videogioco ma guarda cioè da un lato un po' l'Italia se lo merita che abbiano fatto dei franco canadesi un videogame che ha illustrato il nostro rinascimento in un modo devo dire esemplare ecco dall'altro appunto docenti particolarmente attenti poi Paolo della Corte è un fotografo diciamo classico infatti noi stiamo curando parallelamente una mostra di suoi ritratti di grandi scrittori quindi da Zanzotto alla Fernanda Pivano quindi voglio dire mettiamo insieme delle cose che sono importanti Igor Rimoff è uno dei migliori uno dei nostri grandi artisti di Neoludica cioè un mago che poi è appena stato ospite d'onore al driving al premio driving di Terna a Roma quindi al Palazzo delle Esposizioni ci sono ancora le sue opere con le intelligenze artificiali in cui plurale perché sono in realtà più di una ecco e si fa ancora fatica hai ragione hai ragione eppure noi siamo ormai quanti anni sono dal 2008 sono 15 anni che stiamo facendo questa cosa e e non riusciamo sinceramente a volte a capire perché cioè d'altro canto c'è anche un'altra arte fastidiosa tipo il cinema o altre arti che insomma danno ancora fastidio eppure hanno insomma qualche annetto di più del videogame quando c'è qualcosa si dice ma è stato influenzato dal cinema non è stato influenzato dal videogame ma potrebbe anche essere stato influenzato da un altro media pericoloso che ha 2500 anni come un libro quindi la cosa sinceramente a noi da questo punto scafati e penso anche a voi non ci stupisce più di tanto il fatto che però è che da un certo punto di vista anzi da un punto di vista fondamentale va preso in considerazione questo nuovo immaginario questo nuovo mondo che produce arte a maiuscola poi chiaramente uno dice il videogame produce arte non è detto che tutti i videogame siano capolavori d'arte come sfido chiunque a trovare in una libreria tutti i libri che sono capolavori d'arte direi che è una minoranza però la qualità artistica ed estetica c'è ed è assolutamente innovativa quindi è una cosa di cui semplicemente prendere atto poi ti può piacere o non piacere però se la cosa è lì c'è poi in questo caso noi ci andiamo anche a nozze con le scuole perché Assassin's Creed è riuscito a illustrare un rapporto tra storia e videogame che è formidabile cioè un videogame che è stato ambientato e viene riambientato in posti che non sono né Inghilterra né Stati Uniti né Giappone comincia il Medio Oriente adesso arriva Bagdad ragazzi questi hanno un coraggio potente Luca in chiusura poi ti lascio andare riferimenti temporali e anche geografici della mostra e poi ci salutiamo ma guarda la mostra è stata una conferenza mostra che è durata il 2 ottobre all'hotel Aquarius di Venezia dove appunto il direttore Luca Chiais è stato felicissimo di ospitarci e poi ci sono state appunto Laura Inglì ma Jean-Luc Salat che è intervenuto in remoto quindi ha fatto un ottimo intervento di carattere assolutamente rigorosamente storico quindi perfetto e quindi architettura arte e fotografia sono stati proprio analizzati con la presenza poi dei nostri artisti io guarda vorrei ricordare i nomi cioè uno non lo cito perché ce l'avete lì perché insomma Del Rio è con noi da dieci anni ha fatto dei gioielli però appunto abbiamo sia artisti che vengono da fuori dall'arte tradizionale che si occupano di videogame sia artisti che vengono proprio dal mondo dello sviluppo del videogioco quindi Samuele Arcangeli Luca Baggio Cristiano Bonore Emanuele Bresciani Giulia Colombo Francesco Favero Del Rio Prima Valeria Favoccia Dario Giorgetti Claudia Gironi Pierfrancesco Lianas Mauro Perini Ivan Porrini Monique Pasini Filippo Scaboro Cristian Scampini Federico Vavalà Tutti autori giovani qui abbiamo una media di come erano gli autori nel rinascimento cioè viaggiamo sui 30 anni e autori poi la cosa anche che è stata importante è che poi abbiamo sviluppato ha suscitato anche in grande interesse la virtual photography o la photography in game che è stato uno di quegli elementi anche lì innovativi nel campo della fotografia di cui assolutamente bisogna prendere atto perché sono reportage in un mondo che poi non è più tanto parallelo perché ci influenza talmente tanto le influenze reciproche sono tante Luca ti ringrazio tantissimo ti lascio alle tue cose so che siete impegnatissimi con l'augurio di potervi riavere presto qui a Pop Talk e continuare a raccontare tutte le cose meravigliose che fate e di vederci anche di persona quanto prima grazie ancora Mario è stato un piacere io ringrazio te tutti i vari presenti al programma e tutti coloro che ascoltano grazie ancora di cuore a voi di Game Surf che siete una realtà che anche lei ha una bella esperienza ecco grazie ancora tantissimo ci difendono bene grazie ancora ciao Luca una buona serata un bel momento per raccontare quello che dicevamo prima con Francesco insomma proprio quanto Assassin's Creed stia riuscendo ad andare oltre a sfrondare quelle che sono un po' quelli che sono i pregiudizi del videogioco morte torno da te perché avevo una domanda difficilissima da farti adesso finalmente te la posso fare ma secondo te nella tua personale classifica del videogioco e anche per quella che è la tua conoscenza del medium in generale ma esistono altre saghe come Assassin's Creed che sono riuscite a rimanere così tanto sulla cresta dell'onda e secondo te Assassin's Creed sta vivendo un po' un problema fisiologico che lo sta portando a lungo andare a perdere la pill perché comunque sono 16 anni che vive allora questo forse molti non lo sanno però tutti mi chiedono sempre da cosa deriva il mio nome e il mio nome il mio nickname deriva proprio da Assassin's Creed questo non molti lo sanno perché ero talmente appassionato che volevo fare un riferimento agli assassini che portano la morte però è una morte buona una morte per la pace e quindi la morte bianca e da qui deriva tutta questa cosa infatti il mio logo tra l'altro ricorda un po' Altair in un certo senso l'uniforme degli assassini quindi io parto già con un bias se vogliamo dire ma al di là del bias possiamo dire che oggettivamente Assassin's Creed ha avuto una legacy molto importante non solo con tutta una serie di influenze in casa Ubisoft e questo è ovvio ma anche fuori ma anche da un punto di vista culturale abbiamo già citato come nelle scuole a livello cinematografico fumettistico libri tutte queste cose non sono scontate anche per grandissimi franchise videoludici è ovvio che possiamo citare franchise che a merito o meno hanno più vendite a merito per quanto riguarda grandi capolavori o senza merito come Call of Duty ma insomma ci saranno sempre queste realtà quello che a noi interessa fondamentalmente è quanto è stato influente da un punto di vista di accademia videoludica cioè se i videogiochi come io credo come tutti noi che vediamo qui sono arte noi quando parliamo di che cosa è oggettivamente o più ravvisabile nell'oggettivo del bello parliamo di influenza parliamo di legacy parliamo di citazione filologica nel videogioco quanti brand possono vantare la prolificazione la fertilità dal punto di vista filologico di Assassin's Creed ben pochi ben pochi sicuramente è un brand giovane quindi paga da questo punto di vista cioè non è Super Mario ok che ha citazioni e copie a triliardi non è Doom ecco però compensa in ricchezza di lore e tematiche quello che invece magari poteva mancare ad un Doom poteva mancare ad un Super Mario come tutti i brand giovani ma non giovanissimi ecco magari un po' attempato lo è ha il peso il peso degli anni ha il peso di tanti sequel la cui qualità non è esattamente freschissima ha il peso di una certa autorreferenzialità di target perché si cerca di attirare i giovani da tutte le regioni del mondo ma la demografia più grossa restano sempre quelli che sono rimasti più affezionati con Assassin's Creed 1 e i vari due cioè i vari del mondo di Ezio Auditore e quindi c'è un pochino il peso dell'età questo è chiaro questo è sotto gli occhi di tutti e i vari tentativi di casa Ubisoft di cambiare direzione sono emblematici e dovuti a questo altrimenti non ci sarebbe necessità di fare questi ragionamenti Assassin's Creed quindi è una saga che deve trovare il proprio posto Assassin's Creed ha messo le radici nella storia e quindi è chiaro che non può andare più di tanto oltre nel senso che potremmo immaginare un Assassin's Creed ambientato nel futuro che quindi non è basato sul rivivere luoghi storici rincontrare personaggi bensì sul lacheraggio ma c'è già Watch Dogs nel senso a quel punto cosa è Assassin's Creed? si perde un po' questa domanda qui è un po' come se un domani Doom ecco per citare di nuovo il brand diventasse un GDR open world cioè Doom nasce come sparatutto puro e crudo il primo sparatutto in prima persona quello deve rimanere Assassin's Creed da questo punto di vista è un dono è una maledizione cioè non può allontanarsi troppo dal suo target se non lo perde però al tempo stesso ci sono ambiti di miglioramento secondo me ci sono ancora tante epoche che il genere non ha portato in ambito videoludico e sono prolificissime e già se parliamo di guerra fredda di guerre mondiali c'è tanto che si potrebbe dire noi ovviamente quando parliamo di Assassin's Creed ci riferiamo sempre ad epoche bene o male medioevaleggianti rinascimentali epoche coloniali quindi è associato all'antichità bene o male cioè più di tanto non vogliamo andare indietro però ciò che ha dato successo ad Assassin's Creed è stato sempre ah che bello sono in quell'epoca ah ma guarda è quel personaggio storico lì quindi questo format può funzionare secondo me anche nell'ambito della seconda guerra mondiale nell'ambito della prima guerra mondiale o della guerra fredda e queste cose qui quindi secondo me un ambito in cui c'è ancora tanto da dire è quello primo secondo ci sono ancora diversi angoli di mondo felicemente o infelicemente non toccati dal brand e tanto si può fare oppure toccati solo tangenzialmente per esempio la Russia si c'è il fumetto si c'è il minigioco della trilogia Russia-Cina-India però in Russia c'è tantissimo da dire la storia russa sono tantissime cose cioè puoi parlare del periodo di Ivan Interribile che è una cosa puoi parlare del periodo di Caterina Lagrande che è completamente un'altra cosa puoi parlare della Russi-Kiev che è un'altra cosa ancora e puoi parlare della Russia sovietica che è un'altra cosa ancora senza andare a scomodare troppo Putin da questo punto di vista la Cina mamma mia cioè io penso che c'è un target giapponese coreano e cinese che non vedrebbe l'ora di un Assassin's Creed inventato nell'epoca dei tre regni un Assassin's Creed inventato durante il canato un Assassin's Creed inventato cioè ci puoi fare di tutto e di più quindi il potenziale c'è è questione di come coglierlo e come attuarlo e bisogna farlo con coraggio bisogna prendere i rischi di andare oltre la formuletta che funziona perché la formuletta che hanno adesso funziona io faccio il gioco nuova regione eccetera già il fatto di tornare a Bagdad è un rischio che poi come ho detto prima può anche essere l'operazione nostalgia può anche essere poco crescita e in ultimo concludendo ci terrei a dire anche che per quanto concerne la possibilità di successo di Assassin's Creed ormai come è successo nella cinematografia occidentale come sta iniziando a succedere nell'animazione giapponese anche nei videogiochi si sta cercando di creare il cinematic non è il termine corretto videoludic universe cioè shared cinematic universe il multiverso del crossover no? la Nintendo un pochino ci butta un occhio con la questione di Smash Sony con il suo Astro Bot Astro Boy che si chiama quella cosa lì anche che ci mette un po' tutte le vecchie glorie e anche Assassin's Creed è stato foriero da questo punto di vista perché tutti noi non possiamo dimenticare le citazioni palesissime a il già citato Watch Dogs in generale al al Tom Clancy che anche quello è a sua volta una sorta di shared universe quindi ci sarebbero queste cose qui mi rendo conto che è una scelta un po' coraggiosa da fare e che è una scelta che puoi fare fino a un certo punto perché un conto è per esempio Assassin's Creed che è un'opera tua a Ubisoft un altro conto è Tom Clancy che è Tom Clancy quindi devi immagino ci saranno delle autorizzazioni da ottenere tutta una serie di cose però insomma secondo me ci sono le possibilità per rinnovare rinvigorire il genere al di là delle difficoltà che sta vivendo in questo periodo amico diverte ma visto che prima hai nominato il Giappone e quindi ti è venuto in mente di dire potrebbero fare Tenchu adesso morte ti ha dato proprio l'assist definitivo però qual è secondo te l'epoca che hanno sfruttato meglio fino ad oggi adesso vabbè mi direi chiaramente quella di Altair però io voglio che tu mi sorprenda e vorrei anche che tu quindi mi facessi una sorta di non so una specie di totoambientazione per il futuro morte adesso ce le ha dette un po' tutte però vorrei che tu andassi un po' più a fondo inventiamoci una creepypasta su Assassin's Creed allora cosa che tra l'altro ho già fatto allora niente al posto allora no io ti dico in realtà l'epoca che più secondo me hanno beccato è stata il rinascimento fiorentino ovviamente mi posso dire qualche qualche inside guarda mi piace riflettere molto anche su San Gimignano poiché San Gimignano allo stato attuale ha anche meno di un quarto delle torri che vedete nel gioco perché gli aristocratici dell'epoca si sfidavano a chi aveva la torre più alta cosa che fanno anche a Lucca infatti la torre Guinigi con l'olivo in cima fu questo geniaccio che disse io anziché sfruttare muratura ci metto un olivo e ho vinto io e ti è e allungò di quel tot la torre ecco San Gimignano le torri vennero poi distrutte quindi dissero ma le torri erano veramente così o se ne sono immaginate ci sono state delle domande hanno fatto riflettere molto anche a livello culturale anche Monteriggioni è molto più scarna dentro di quello che si vede nel gioco quindi però ecco ad esempio Firenze e Venezia sono state fatte talmente bene l'atmosfera era talmente bella cioè quando le persone parlavano delle loro cose c'erano gli annunci vedevi Venezia che si animava qui di notte giorno Firenze hanno costruito un'ambientazione talmente realistica che io non ho mai più visto una cosa del genere né prima né dopo non sono secondo me più riusciti a fare a farlo così così bene secondo me ecco poi ci sono stati gli alti e bassi di sicuro quello secondo me la cosa del Giappone sarebbe interessante perché potrebbero sfruttare i castelli l'unificazione del Giappone io sono quasi sicuro che lo ambienterebbero nel periodo della guerra fra i vari fra gli shogun per l'unificazione del Giappone e quindi sicuramente ci sarebbe il come si chiama Nobunaka come si chiama è quello che unificò il Giappone Ok alziamo le mani ragazzi alziamo le mani quindi sono sicuro che potrebbero fare un ottimo lavoro con i kuni ninja che sono nati per essere gli assassini d'eccellenza e possono sfruttare bene un effetto nostalgia che hanno fatto con il rinascimento che ne so le le come si chiamano tutta la la lore che c'è all'interno del Giappone antico la non mi viene in mente ecco le geisha sì tutto il contesto che c'è all'interno di un castello che magari hanno fatto sì e no con altri giochi loro potrebbero concentrarsi tantissimo su quello che è la vita all'interno di un castello con tutti i fan che ci sono del Giappone degli anime dei manga potrebbero fare un vero capolavoro se si concentrano secondo me sarà un buon lavoro ecco quello che dico io tu mi hai detto per il futuro io spero e oso non solo che faranno qualcosa con le guerre mondiali hanno fatto un accenno con la parentesi da Londra ok però quello che spero io è che osino talmente tanto da fare il futuro da portare un'epoca futura con delle città futuristiche quindi stai andando contro quello che ha detto morte bianca prima no no più che contro che a un certo punto bisognerà osare ancora di più e quindi non dico adesso però secondo me ci starebbe un'epoca in cui non dico Assassin's Creed Marte però sarebbe interessante sulla terra vedere un contesto futuristico non dico neanche cyberpunk però quando le hanno buttate tutte lì potrebbe essere interessante vedere cosa hanno da tirare fuori dal cilindro con una cosa del genere io intanto aspetto il Giappone per vedere se possono fare il salto definitivo punto lì nel senso ci sta Francesco a te l'onere di chiudere facendo un riepilogo di quello che hanno detto i due mi interessa perché Francesco pensa della sua epoca preferita visto che diceva che secondo lui magari c'era qualcos'altro anche di bello dopo ma secondo allora io sono come dicevo all'inizio della live io sono uno di quelli che all'inizio aveva approcciato Unity con il naso otturato salvo poi innamorarsene e sono uno che ai tempi si innamorò di Assassin's Creed 2 salvo poi disinnamorarsene vedendolo con gli occhi un po' più adulti perché io adesso lancio una provocazione secondo me la storia che c'è il racconto fatto in Unity non è niente di diverso dal romanzaccio brutto che ci siamo di cui ci siamo innamorati in Assassin's Creed 2 con Ezio che è un superuomo guascone che vince tutto che gli va bene tutto gli ammazzano la famiglia all'inizio però gli va bene tutto dopo io ad esempio Unity io me ne sono innamorato perché dopo che ho avuto la possibilità di di spolparlo il setting innanzitutto è fighissimo perché ci troviamo in un momento clou dell'umanità dove c'è lo scontro è palese come le crociate ma c'è il il problema del relazionarsi con le posizioni dei due fronti cioè in Unity un assassino uccide il suo il suo gran maestro perché stava trovando un armistizio momentaneo con i Templari perché per lui era no lo scontro deve esserci impossibile parlare con i Templari invece in quel momento c'era il dialogo perché l'illuminismo stava avendola meglio muoviamoci per ragione invece di continuare a sgozzarci troviamo una soluzione e invece no quindi c'era tutta quella quella sfumatura che riportava i binari di Assassin's Creed in una in un'ottica relativista mentre invece da Assassin's Creed 2 in poi c'è stato il una riduzione a buoni contro cattivi per un periodo dove gli assassini erano sempre buoni perché non si sa i Templari erano sempre cattivi mentre lì invece c'erano delle sfumature di senso che dicevano ok qua cosa sta succedendo quindi secondo me da quel punto di vista Unity a oggi rimane insuperabile per quanto riguarda la ricreazione della vita anche Unity si difende bene ma lì ti posso dire che qua spezziamo una lancia a favore dell'ultima trilogia perché con Origins hanno introdotto le routine delle persone io ad esempio ho speso una marea di ore ad osservare dove andavano gli NPC cioè cosa facevano in una giornata io ho fatto una marea di fotografie che poi ho usato anche alcune di loro le ho usate in una mostra con Luca e Deborah di Luca io boh avrò giga e giga di foto perché mi sono innamorato del mondo cioè io andavo a vedere cosa andavano a fare le persone cosa facevano come lo facevano cioè non erano più non c'era più un loop c'era gente che andava lavorava giocava andava a dormire il giorno dopo si risvegliava e continuava la sua vita cioè viveva quindi da questo punto di vista penso che le saghe attuali abbiano abbiano reso molto meglio l'idea curiosità dovrei andare a vedere se in Mirage c'è ancora questa cosa ma sarebbe bello prima che continui il discorso cioè secondo me il capitolo dove si vede più che scriccola la vicenda assassini templari non è tanto Unity quanto quello quello in Portogallo come si chiama il nome mi spugge dove c'era il terremoto in Portogallo anche ah Rogue che è quello che è quello uscito in concomitanza l'assassino che dice aspetta un attimo forse non abbiamo così ragione esatto ma infatti quel periodo là alla fine poi sono anche connessi perché poi aiuto non mi ricordo il protagonista Cormac Cormac mi pare vabbè comunque poi va a decidere il padre di Arno e da lì inizia Unity cioè Rogue finisce e inizia Unity quindi siamo lì il contesto è tutto lì sono molto curioso di vedere Assassin's Creed Red che è adesso il prossimo il prossimo capitolo che sarà ambientato effettivamente in Giappone che però a questo giro c'è un antagonista mica da ridere che è in casa Sony che è Ghost of Tsushima Ghost of Tsushima ha venduto un fottiglione di copie ha dato alla gente quel gioco on the world in Giappone che chiedeva ad Assassin's Creed da un sacco di tempo io l'ho recensito anche tra l'altro l'ho recensito qua per Game Surf e gli ho dato un bel votone a Ghost of Tsushima e tra l'altro Ghost of Tsushima ha avuto il pregio di mettere in ridicolo il combat system di Assassin's Creed che era un po' sempre scriptato e invece lì ti ha dato anche una bella sfida all'arma bianca dove potevi darci dentro e con un grado di sfida tale che non rompeva minimamente l'immersione o la possibilità di esplorare sarà una bella sfida lì Ubisoft dovrà darci dentro con tutte le possibilità che offre in termini di GDR perché comunque abbiamo visto che se la sanno gestire bene vediamo più che altro ecco quello che mi spaventa del futuro della saga è questo hub questo Assassin's Creed Infinity che promette di includere tutto lo sciibile la macelato che conosciamo boh l'hanno solo annunciato non si sa che forma ha non si sa dove vorrà andare a parlare io spero che reintroducano il multiplayer perché quello lì fu la droga tra 2010 e 2011 e cos'altro ah ecco vabbè poi adesso è uscito sta uscendo su mobile Assassin's Creed Jade che è ambientato in Cina che quello lì tra l'altro mi ha scioccato perché se ripenso che un gioco del genere prima girava su console adesso lo stanno facendo girare su mobile qualcosa di mostruoso beh basti pensare che Resident Evil Village e Death Stranding arriveranno su mobile quindi no c'è da impazzire e quindi anche lì un potenziale di rivolgersi a un'altra fetta di mercato improponibile cioè in termini di volumi è una roba ciclopica perché il mondo del mobile è clamoroso se riescono poco poco a far sedere 5 minuti in più alla persona che sta sul mobile fanno il botto però ecco torniamo ai discorsi fatti all'inizio secondo come te la gestisci se vuoi troppo stringi poco e quindi vediamo sicuro sono molto interessato nel vedere questa lotta Assassin's Creed Red con Ghost of Tsushima 2 perché né uno né l'altro uno l'ha annunciato il Sucker Punch ancora no ma è uscito nel 2020 il primo quindi se non lo annunciano a meno che non lo annunci The Game Awards potrebbero visto che ormai è diventata la baccheca di annunci annuale che tutti aspettano visto che le tre è morto a meno che viene fuori il prossimo anno Assassin's Creed Red non mi ricordo quando dovrebbe uscire ma sono ancora in alto mare con i lavori e visti anche le controversie e le notizie dell'ultima ora dubito che che ci metteranno poco specie se poi se non risolvono le cose vanno in sciopero anche e vanno in sciopero anche i suoi creativi lì è lì è caputo dicono che sarebbe giocabile dall'inizio alla fine a inizio 2024 ma io la vedo molto difficile inizio 2024 inizio 2024 non è realistico no non è realistico ma per una semplice questione di marketing cioè il modello il modello almeno sei mesi il modello Ubisoft ti faccio vedere il teaser ti faccio vedere lo screenshot ti faccio vedere la cinematica ti faccio vedere un po' di gameplay non ce l'hanno questo tempo non ce l'hanno in mano assolutamente non ce l'hanno in mano no per niente quindi direi che proprio questo questo rumor che ho letto non non lo condividiamo non lo possiamo per niente approvare già sarebbe più credibile eventualmente un periodo più avanzato del 2024 così almeno uno potrebbe sì magari ecco un rivio all'inizio dell'anno me lo aspetterei sì allora già già quello lo potremmo accettare signori siccome siamo in chiusura adesso o mai più se avete qualcosa da dire ditela oppure dovete tacere per sempre io ho da dire volevo dire un'ultima parola vive in più no scherza però lui l'amico di verde sa che non potevo non potevo trattenermi ma lo facciamo sempre nel nostro live questo sì lo faccio sempre non è per belleità filofasciste però a parte questo una cosa seria ce l'avrei da dire cioè io questa cosa l'aveva già detta non mi ricordo se Francesco o Mario vabbè uno dei due l'ha detta uno dei pregi di Assassin's Creed è che è stato molto politico molto più di quello che non sarebbe consono ecco per una saga e questo ci sono tanti modi di evidenziarlo però in modo particolare tutti quanti ci ricordiamo leggendario numerose ambientazioni numerosi take controversi ma già in sé per sé il primo capitolo cioè voglio dire un capitolo sulle crociate è già una cosa alquanto controversa in America poi lo so che attenzione lo so che Ubisoft è francese però target video ludico che puoi vendere all'America eccetera tra l'altro Fesco Fresco di Torri Gemelle perché comunque è Fesco Fresco l'attentato accadde pochi anni prima poi via boom gioco gioco su un terrorista di fatto sì per gli americani sì e se voi considerate il fatto che comunque stiamo parlando di un gioco che ha avuto il coraggio di mettere come protagonista in Russia un tizio che era praticamente così così con i comunisti cioè stiamo parlando di una roba incredibile quindi secondo me un'altra cosa che Ubisoft deve non deve dimenticare anzi deve fare il più possibile deve ricordarsi riconnettersi a queste sue radici è appunto di creare un gioco politico molto molto politico molto molto questa cosa piacque perché era un gioco maturo era era e anche il suo essere storico è un po' questo è l'essere politico è andare a parlare di cose di cui gli altri giochi non ti aspetteresti che parlassero quindi questo è stato il successo di Assassin's Creed e devono tornare a fare questo anche perché è impossibile è impossibile non farlo politico ogni azione è politica quindi tanto vale che ci si buttino a pesce e scelgano un racconto non necessariamente una posizione ma un racconto sono d'accordo signori io vi ringrazio i migliori auguri ad Assassin's Creed di tornare a farci vivere quel fuoco fortissimo che abbiamo vissuto per tanto tempo grazie al buonezio auditore speriamo di poterlo fare l'anno prossimo con il nuovo capitolo visto che il Giappone potrebbe risvegliare in noi grandissime aspettative e un grandissimo fuoco della passione io vi ringrazio per averci seguiti l'appuntamento è per giovedì prossimo parleremo di Loki visto che esce la seconda stagione con noi ci sarà David Chevalier doppiatore italiano di Loki e non solo in realtà anche doppiatore di Morti Enric e Morti quindi ci possiamo anche divertire e fargli fare un po' di voci io vi ringrazio tantissimo ringrazio Francesco ringrazio Amico Diverte ringrazio Morte Bianca ringrazio anche Luca che ci ha abbandonato da un po' Luca Traini di Neoludica e quindi una buona serata a tutti quanti voi ciao Luca Gambino a Templare a Ah!